E' bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati su Clash of Clans, ovviamente questo video in modena molto sotrogeggiante lo sto registrando in macchina e infatti sentirete le macchine passare. Allora, intanto vi dico subito che dovete iscrivervi al canale se vorreste altri sneak peek e mettere mi piace. E oggi è veramente un aggiornamento corposo, oltre a quello di ieri che vi invito ad andare a vedere. E oggi è l'aggiornamento dedicato al municipio a livello 11, quindi verranno introdotte nuove difese, cioè che ci sono già. Quindi però altre difese, quindi un cannone nuovo, una torre degli arcieri nuova, una torre stregone nuova, quindi qualcosa di epico e soprattutto un altro arco X. Quindi ci sarà veramente uno spazio limitato per fare i villaggi e per l'appunto ci saranno quindi un botto di strutture nuove per il municipio a livello 11, un nuovo cannone, una torre d'arciere, una torre dello stregone e per l'appunto un arco X. Quindi una cosa veramente, ma veramente devastante. Adesso, oltre a queste novità per il TH11, quindi un altro arco X, un'altra torre stregone e tutto quanto, un'altra torre d'arciere, per il municipio a livello 9 sarà disponibile, soltanto per il livello 1, la pozione della gelo. Quindi qualcosa di veramente utile per il municipio a livello 9, perché in War ormai era diventato abbastanza difficile tristellare i municipi a 9 maxati, quindi sarà un'introduzione ovviamente utile. Però per l'appunto questa nuova, questa pozione della gelo appunto sarà disponibile però soltanto a livello 1. Qui intanto, come potete vedere da questo video che ho scaricato da Kievpat, ogni volta, come potete vedere da questa schermata, non fanno mai vedere la parte dopo dei golem, perché sicuramente ci sarà il devastatore. Intanto qui sto buggando tutto quanto, ci sarà il devastatore sicuramente, quindi è una nuova truppa che ovviamente introdurranno dopo. Io vi ricordo di iscriverti al canale se ancora non avete fatto, perché a breve usciranno altri sneak peek, domani, dopodomani, fino a quando non finiscono, e noi mettete mi piace, e noi niente, mettete mi piace, commentate quello che pensate voi di questo aggiornamento, iscrivete al canale se ancora non avete fatto, e noi ci becchiamo domani con il prossimo sneak peek. E attenzione, ci sarà il ritorno del big bottino. Bella!